Lavori per un importo complessivo che sfiora gli 850 mila euro. Verrà realizzati a Sondrio grazie all'importante contributo della regione Lombardia, 700 mila euro destinati al capoluogo valteinese all'interno del piano Marshall regionale. Si va dalla riqualificazione dei giardini di via Battisti e via Colombaro, alla messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, dalla manutenzione della rotonda di via Vanoni che si incontra poco prima del Bosaggia, alle opere di adeguamento della primaria Paini, delle medie Torelli, dell'asilo Nidola Coccinella, del restauro di altre porzioni di Castelmasegra. Andremo a intervenire in maniera strutturale sulla rotonda, l'intersezione tra la via Vanoni, la tangenziale, è un intervento necessario perché la rotonda è in condizioni di ammaloramento piuttosto grave e oltre a questo andremo anche a sostituire i giunti di dilatazione del ponte. Poi interventi che riguardano le scuole, interventi di messa a norma degli edifici scolastici, seguiamo una politica costante in questi anni di attenzione alle scuole e quindi andremo a ottenere i necessari certificati di prevenzione incendi su tutti gli edifici appunto oggetto di questo intervento. C'è un importante intervento di riqualificazione del giardino della scuola Quadrio in via Cesare Battisti e della diacente giardino della scuola dell'infanzia Segantini. Verrà riqualificato il manto erboso, verrà installato su entrambi i giardini un impianto di irrigazione, verranno sostituiti alcuni giochi e verrà ovviamente posizionata una pavimentazione antitrauma in gomma colata per mettere appunto in sicurezza i giochi. Lo sviluppo ulteriore della ciclopedonalità, questo comporta però di fare degli interventi che sono anche urgenti perché i nodi più delicati e anche pericolosi sono gli attraversamenti, l'asse Aldomoro via Tonale, via Milano, via Stelvio in parte, la zona di via Nani, via Germania e via Europa. Oltre a segnalettica i colori utilizzati l'aggiunta anche dell'illuminazione. Sono 700 mila euro che sono stati trasferiti da Regione Lombardia con il vincolo di spesa entro il 31 ottobre, vincolo di spese che il Comune riesce a mantenere. Gli appalti verranno fatti in tempi brevi anche grazie all'impegno dei nostri uffici che sono riusciti con un lavoro sicuramente serrato a rispettare le tempistiche imposteci da Regione Lombardia che sicuramente richiedevano un impegno importante sia della parte politica che della parte amministrativa.